Una legge quadro sul lavoro da portare all'attenzione e possibilmente all'approvazione della maggioranza. Il testo è stato presentato oggi a Pescara dai gruppi di centro-sinistra al Consiglio regionale. Tutto nasce dalla volontà di approvare per la prima volta in Abruzzo una legge quadro che comprenda tutte le politiche attive del lavoro, nel segno dell'innovazione 4.0. Una serie di misure incentivanti per il lavoro dei giovani e delle donne. Innanzitutto l'Abruzzo ha bisogno di recuperare ancora 11.000 posti di lavoro rispetto ai livelli pre-crisi del 2008. Vi sono molte opportunità da cogliere e una domanda di lavoro da soddisfare. Il nostro è un disegno di legge quadro, di sistema, molto innovativo, che attinge alle migliori pratiche che sono state sperimentate in giro per l'Italia sulle politiche attive del lavoro. L'Abruzzo punta fortemente sui giovani, il lavoro ai giovani, la formazione finalizzata al lavoro, via un elenco preciso di misure concrete che sono attivabili, punta a tre grandi assi strategici di sviluppo della nostra regione. Industria 4.0, quindi innovazione, carta di Pescara, quindi sostenibilità. L'Aquila, il rapporto Ocse, l'Aquila, la città della conoscenza, le risorse sono disponibili, bisogna attivarle e spenderle con intelligenza. 35 milioni di euro sono già disponibili perché rivenienti dai residui della Cassa Integrazione Interroga, cioè risorse attribuite dal Governo centrale alla nostra regione, 40 milioni di euro riprogrammabili sul Fondo Sociale Europeo, altre risorse che sono attingibili dal bilancio regionale che nei prossimi anni, a partire dal prossimo anno, vedrà liberate molte risorse. Noi sfidiamo la maggioranza inerte, ferma, che non riesce ad affrontare neanche uno dei problemi della nostra regione. Questo è il nostro progetto, è un progetto concreto, serio, portiamolo in commissione, portiamolo in aula, approviamolo, perché i nostri giovani, i disoccupati, espulsi dalle aziende in grisi, attendono risposte.